Stamattina è uno dei tanti incontri che il Comune ha predisposto con la collaborazione di Xpress per la presentazione dell'aeroporto alle varie realtà economiche, industriali, culturali che sono sul territorio. Stamattina abbiamo qui i tour operator per una definizione di quelli che saranno i voli durante l'estate e quindi messa in vendita dei pacchetti di volo e quindi il coinvolgimento dei tour operator è molto importante. Gli incontri proseguiranno anche nelle settimane successive, li stiamo predisponendo. Naturalmente il Comune si fa carico di questa cosa perché l'amministrazione ritiene che l'aeroporto sia un mezzo fondamentale per il secolare isolamento che l'Aquila ha vissuto e quindi di importanza fondamentale. Vorrei comunque esplicitare riferendomi anche a delle interviste che si leggono sui giornali anche da grandi esponenti della maggioranza che lo scalo di Preturo ha un iter che è stato programmato sin dal 2009. È uno scalo commerciale, nulla osta che in questo scalo ci possa essere protezione civile o quant'altro. Tutto ciò che può far vivere l'aeroporto tramite la Xpress con dei raffronti con il gestore che è Xpress si potrà fare. Rimane però secondo me, fino a quando non mi si dirà che così non è, che l'aeroporto è un aeroporto commerciale e io come assessore allo sviluppo dell'aeroporto dei parchi Giuliana Tamburro continuerò a lavorare anche nei mesi successivi affinché partano i voli commerciali dall'aeroporto di Preturo. Quello che noi stiamo condividendo con gli operatori del settore è quello che abbiamo sempre dichiarato. L'aeroporto ha una certificazione per il tessuto riguardante allo sviluppo della città dell'Aquila e quindi dobbiamo per forza coinvolgere come giusto che siano tutti i tour operatori e le persone interessate a sviluppare questa cosa. Quindi la strategia è quella di comunemente insieme a loro cercare di portare e attrarre il territorio aquilano in tutti i settori dalla parte turistica alla parte business o alla parte aviazione. Se ne sono dette tante ma effettivamente la situazione qual è? La situazione è quella che noi vediamo. In questo momento l'aeroporto è aperto al traffico commerciale e stiamo coinvolgendo delle compagnie per iniziare a volare dall'aeroporto dell'Aquila. Questo è quello che noi stiamo portando avanti. C'è qualcuno che atterra e qualcuno che parte? Sì, voli privati. Abbiamo avuto qualche volo piccolo commerciale da 4-6 posti. Abbiamo il mondo dell'aviazione generale e continua a esistere nella regolarità con i flussi che ci sono in questo aeroporto. Per quanto riguarda il traffico commerciale siamo sempre vincolati all'inserimento di una compagnia che prenda costantemente l'Aquila come punto di riferimento.